ultima gara obiettivo raggiunto ovviamente terzo posto e domenica playoff in casa sì obiettivo raggiunto che c'eravamo posti a fine andata una volta che ci siamo trovati in maniera sorprendente e comunque positiva al terzo dopo il giro a vuoto tra fine dicembre e gennaio sembrava una cosa quasi impossibile invece con il lavoro i ragazzi hanno inseguito hanno riraggiunto il terzo e l'abbiamo mantenuto spiace aver preso gol a pochi minuti dalla fine nella partita che è stata vera in cui c'è stato spazio per i giocatori che magari fino ad oggi hanno trovato meno spazio ma lo ritengo giustissimo così abbastanza soddisfatto della prestazione un paio di errorini che poi ci possono stare forse per mancate intese visto che non ci sono tanti minuti assieme di gare ufficiale con degli interpreti però penso che questa squadra al terzo anno di il ritorno della casa tese in Serie D dopo tanti anni chiude con la miglior media punti e forse con la rosa meno diciamo meno qualificata addetti ai lavori c'era sempre stata grande fiducia da parte della società siamo la seconda parte del campionato per gol in trasferta sì 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 no quello no il gol in trasferta siamo primi e vittorio scusi sì sì come come classifica siamo secondi abbiamo fatto un gran percorso fuori casa e ci spesso che ci siamo ampiamente meritati questa posizione come dicevo prima una media punto importante la più alta degli ultimi tre anni da quando la casa tese è tornata in D penso che questo debba essere motivo di orgoglio per questo gruppo che ha lavorato veramente benissimo adesso siamo in playoff partita in cui non bisogna fare calcoli divertirsi e giocare per vincere come mi ha sempre provato a fare complimenti minister ti sentite di ringraziare qualcuno ancora presto ringrazio i ringraziamenti sono abbastanza scontati e adesso l'obiettivo è pensare alla parte di domenica cercare di prolungare ancora di 14 giorni questa stagione sicuramente tutti i ragazzi perché hanno lavorato al primo giorno fino a oggi con massimo impegno la società mi ha dato la possibilità di lavorare con le mie idee con la mia testa e ovviamente che lo staff che ti ha accompagnano tutti i giorni però questo è il primo step adesso ci sono quelle partite che tutti vorrebbero giocare anche se dicono che non contano nulla siamo stati bravi a esserci dentro ed è giusto che ci che ci rigodiamo si dice che le finali non si giocano e si vincono allora prima ci bisogna vincere la semifinale poi se dovessimo arrivare in finale te lo dico grazie complimenti grazie elettore rò obiettivo possiamo dire obiettivo raggiunto terzo posto e prima gara di triocca onestamente è un obiettivo che veramente ci rende orgoglioso del lavoro fatto un grande staff un grande mister un grande gruppo di giocatori la società ci ha fatto lavorare al meglio siamo riusciti veramente ad accontentare tutti quanti anche oggi abbiamo dimostrato che pur giocando con sette giovani fino a cinque minuti dalla fine vincevamo 1 a 0 poi c'è stata un po in compressione difesa abbiamo preso l'uno pari però siamo riusciti ancora dopo qua a prendere una traversa quindi abbiamo dimostrato tutti che ce la siamo giocata fino alla fine perché volevamo ottenere questo risultato anche quest'anno come l'anno scorso siamo riusciti arrivare terzi e adesso ci facciamo i nostri playoff quello che verrà verrà e tanto per avere un qualcosa in più che ci renderà orgoglioso nei prossimi anni quando ci ricorderemo di chi ha giocato casate di chi è rimasto ha fatto le cose fatte bene a casate quindi prossimi 90 e forse 180 minuti non si dice mai che non conto si gioca allora si gioca per vincere poi quello che verrà verrà è anche vero che magari pleoff non possono portare a promozioni vi dicendo però sai la gradatoria fa sempre comodo essere dentro e quindi è giusto onorare fino alla fine questi pleoff è giusto dal ruolo istituzionale dove parti nella domanda l'anno prossimo guarda abbiamo promesso al presso sia io che il mister che settimana prossima ci sediamo da parte mia non ci sono grossi problemi ho un po di problematiche a casa con mia mamma tutte queste cose qua che mi lasciano un po diciamo un po perplesso però penso che se riesco a conciliare un po tutto non penso che ci siano problemi parleremo anche col mestre poi dovremo anche capire cosa vuole fare il presidente perché adesso l'abbiamo abituato bene sarà dura a contentarlo ancora un po di giro a ticella bisogna alzare a ticella bisogna vedere presidente cosa vuol fare cosa non vuol fare tutto lì ancora complimenti grazie mille